Signor Presidente del Consiglio, signor Rettore, signor Direttore dell'Apple Academy, autorità, signore e signori e soprattutto tantissimi giovani e studenti qui presenti. E sono molto grato, signor Presidente, di essersi intrattenuto così tanto stamattina. Sono grato che lei stamattina si sia intrattenuto a lungo in questo luogo così importante della nostra città, dove si intrecciano saperi, conoscenze, formazione, talenti, università, enti locali e imprese. Questa è una città pronta a una serie di sfide, anche alla sfida di saper coniugare innovazione, tecnologia, digitalizzazione, ma anche alla sfida di non dover più scegliere tra diritto all'industria e diritto alla salute. Nel terzo millennio credo che possiamo colci l'obiettivo che la persona è al centro e quindi ogni tecnologia deve essere a servizio della persona, dei diritti alla vita, un ambiente salubre e Napoli ha tutte le caratteristiche per affrontare questa sfida, per una serie di ragioni. Ne cito alcune molto brevemente. La prima è che se oggi, negli ultimi anni, tanti vengono nella nostra città, evidentemente sta accadendo qualcosa. Sicuramente c'è l'energia di cui si parlava poc'anzi, c'è la sofferenza che ti stimola a valutare la crisi anche come un'opportunità, c'è la voglia di mettersi in gioco, c'è la formazione di quell'autonomia che non pensa che il destino debba venire dall'alto, ma che siamo noi che ci stiamo costruendo il nostro futuro. Signor Presidente, Napoli con tutte le migrazioni e la città d'Europa con il maggior numero di bambini e giovani. Vi do anche qualche dato, che non è dato del Comune di Napoli, ma dell'Associazione Azionale dei Comuni Italiani. Nel 2018 Napoli ha registrato, dopo due anni consecutivi, la maggior crescita per offerta culturale e turistica. Siamo la terza città per start-up giovanili, superando Bologna e Torino, e come lei sa sono città anche più ricche, molto meglio finanziate. Quindi nella nostra città sta accadendo sicuramente qualcosa di importante, allora colgo l'opportunità della sua visita per fare tre brevi considerazioni che possono essere utili alla nostra città e non solo. Noi siamo pronti alla sfida delle autonomie per costruire un'Italia poesa che valorizzi tutte le sue differenze, ma credo che bisogna essere tutti consapevoli, che porto le mie esperienze di sindaco di otto anni, che bisogna comprendere che la maggior parte del prodotto interno lordo del nostro paese viene dalla grande area urbana. Le città devono essere liberate da troppi vincoli finanziari e normativi. Se si mette zavorra alle grandi aree urbane del nostro paese, diventa difficile creare quello sviluppo della persona umana, come si ha citato nell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, l'eccesso di burocratizzazione e i tanti vincoli rendono anche difficile certe volte gli imprenditori di poter investire. Da Napoli stiamo cacciando un po' alla volta tutti i prenditori che non ci interessano, non ci interessa l'impresa che crea sviluppo, che crea benessere, che lavora in corretta interazione con tutte le istituzioni della nostra città. La seconda considerazione, so che il governo è molto impegnato, siccome il Rettore ha citato questo quartiere, a cui siamo tutti molto cari, io penso che sia assolutamente inaccettabile e inqualificabile che una grande multinazionale con una X cancelli dall'oggi al domani un'azienda di viargine a Ponticelli cancellando 420 posti di lavoro. Come lei sa in questa zona le industrie non sono tante, Napoli non è solo la città dell'università, della cultura, dell'umanità, anche dell'onestà, perché qua ci impegniamo con le mani pulite, è anche la città dell'industria, come ha potuto vedere stamattina. Io credo che con il suo impegno autorevole e con la sua sensibilità si può dimostrare che se una multinazionale prende impegni qualche mese fa nella nostra area o mantenere, perché quei 420 posti di lavoro significano industrializzazione della città, significano competenze, professionalità e significa anche non fare un regalo alla camurra, perché se si desertifica un'area complessa come l'area orientale di Napoli, sicuramente il crimine sarà pronto a investire. Una terza e chiudo. Napoli, città dei giovani, tra qualche giorno ospita, grazie a una sinergia istituzionale importante da parte di tutti nella nostra città, le università. Sappiamo che la capitale d'Italia ritenne di non ospitare le Olimpiadi, le università di dopo le Olimpiadi sono l'evento sportivo più importante del mondo. Avremo 8.000 atleti, tantissime persone, 128 nazioni, 100 televisioni. Mi auguro che anche l'attenzione del governo si alta nei prossimi giorni, perché il nostro obiettivo, e siamo anche lieti che tra qualche giorno verrà il Santo Padre nella nostra città, è dimostrare che questa può essere anche la città dell'umanismo. Quindi sarà in quei giorni in particolare la città dei giovani, la città della cultura e la città della pace. Io credo che Napoli, nel cuore del Mediterraneo, può costruire ponti che vanno nella direzione di considerare le eccellenze della nostra città i giovani. E con queste sfide togliamo anche l'alibi a chi dice che non c'è alternativa all'estese, alla camorra, alle ripianze e al degrado. Se il Presidente a Napoli i problemi sono tanti, le sofferenze pure, i problemi si accavallano ogni giorno, ma non penso, non perché faccio il singolo, perché ho scelto comunque a prescivere di vivere a Napoli, che noi non siamo la zavorra dell'Italia. Noi penso che possiamo essere una grande certezza per costruire un'Italia unita, in cui si valorizzano tutte le autonomie e qui Napoli è pronta a qualsiasi sfida, proprio perché noi abbiamo radici storico-culturali molto forti, abbiamo tanti talenti, abbiamo competenze, abbiamo qualcosa anche che non si compra al mercato, che è la passione. Cioè sappiamo resistere anche a tsunami molto pesanti. Quindi io sono contento della sua visita e sono convinto che nel futuro la cooperazione tra il governo della Repubblica italiana e la città di Napoli potrà essere sempre più forte e più leale. Grazie e buona giornata. Grazie. Grazie.